mi succedeva una cosa strana che fratta e contro il mio modo di ragionare io non sono mai stato un presuntuoso ho sempre pensato che quello che mi stava succedendo era qualcosa di eccezionale no non che fosse scontato e lì invece davo la sensazione come dire normale che stiamo vincendo abbiamo visto questa abbia abito quell'altro invece stava succedendo qualcosa di eccezionale